E' stato definito a torto il primo dirottatore della storia, Raffaele Menichiello, di Melito Erpino, l'uomo che 44 anni fa salì sul Boeing 707 della TVA in partenza da Los Angeles e diretto a San Francisco. Obiettivo, ritornare in Italia perché deluso dall'America. Ralph, come lo chiamavano in USA, intima il comandante di volare verso New York, da qui l'oceano era più vicino. All'arrivo il giovane Marine, che aveva combattuto con tanto valore in Vietnam, seppe tenere lontano dal Boeing gli uomini dell'FBI pronti a tutto. Lui sparò contro un estintore per farli allontanare, poi il decollo e l'arrivo a Roma. Il resto è vita di oggi. Alla base del dirottamento 200 dollari denegati, ma anche un problema che aveva avuto con la corte marziale. Quel Marine, infatti, aveva messo a suo quadro lo spaccio della base e se ne era andato con le tasche piene di roba da mangiare e da bere. Una spesa, calcolata in 200 dollari, quanti ne mancavano dal suo libretto di risparmio. Ma Menichiello, così ricostruisce ai nostri microfoni quei momenti ricordando il vero motivo di quel gesto, così eclatante. La motivazione è per 200 dollari. Io, quando ero nel Vietnam, ho versato sul mio conto circa 800 dollari. Ritornando in America, chiedendo questi 800 dollari, mi sono state consegnate 600 e da qui ho fatto una richiesta perché io ero convinto che erano 800, ma non ho avuto nessuna soddisfazione, sono solo stato maltrattato dal mio comandante. Un giorno ho bevuto, normalmente io non bevevo e non bevo tanto, non bevo quasi niente. Ho bevuto un po' e volevo prendere questi 200 dollari. Sono entrato nello spaccio militare, mi sono addormentato nello spaccio militare, mi hanno preso la mattina e mi hanno messo in prigione. Ho fatto due giorni di prigione e il giudice mi ha rilasciato dopo aver visto il mio record militare, che non ho mai avuto problemi precedentemente a quell'azione. Dopo diversi mesi sono venuto a conoscenza che ero sotto corte marziale per questo fatto dello spaccio militare. E appunto la corte marziale non doveva giudicarlo? Sì, ma era una cosa che non avrei potuto fare quando il giudice civile mi ha già perdonato della mia azione e solo se io avrei fatto qualche altra cosa, allora avrei potuto essere lì. Ma la corte marziale non la ritienevo giusta. A quel punto ho cercato di uscire dagli Stati Uniti, di uscire dal servizio militare, dal corpo dei marinzi. Ma l'unica possibilità che c'era è che ho trovato alla fine era quella di dirottare un aereo. Quindi lei è arrivato in Italia in questo modo. Senta, alcuni giornali, alcuni quotidiani che hanno parlato abbastanza di lei, hanno detto che lei ha fatto questo gesto per amore. Possiamo conformare o confutiamo? Io direi di no, perché è una questione di onore, di principio. Si può anche dire amore, ma certamente quello che hanno scritto il giornale non è esatto, perché io dopo sei anni che vivevo negli Stati Uniti non potevo ritornare in Italia per una ragazza che appena conosceva e che non sentiva da sei anni. Mi sembra che non è logico questo discorso dell'amore di questa ragazza. Però se noi diciamo d'amore dell'Italia, allora possiamo dire di sì, perché io potevo andare in altri paesi dove forse mi avrebbe raccolta a braccia aperte, paesi che erano contro gli Stati Uniti, invece sono venuto in Italia, perché l'Italia era il mio paese, il mio paese di origine dove sono nato, sono venuto in Italia rischiando quelle che potevo rischiare. Come giudica quel gesto fatto 44 anni fa? Penso che è stato un errore, un errore che mi ha costato e mi costa. Comunque è sempre una cosa sbagliata commettere un'azione di forza contro altre persone che può mettere a rischio la vita delle altre persone. Penso che sia sbagliato, totalmente sbagliato. Grazie. 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 Grazie.